Il muro che ci avete è con un fissatino che dovete preparare, ma dovreste preparare anche se vuoi fare una pittura o qualsiasi cosa, devi sempre dare un isolante o un fissatino a quel punto nasce il dover dare un ancorante alla parete, l'ancorante alla parete è il primo soddisfatto da Stucchi perché questo vi dà la prova del 9, della forza che ha la parete di poter sostenere il peso di un chilo, un chilo e mezzo di spatola Stucchio e quando il primer si va ad ancorare la parete, la parete è forte, il primer rimane ben ancorato, a questo punto qua sopra ci possiamo andare come vogliamo andare, se invece la parete è debole, la pittura che c'è sotto è debole, il primer si va ad aggrappare, se è debole cosa fa? Si gonfia, a quel punto ti dice no, non puoi andare avanti qui, vai a scrostare la parete, la pittura che c'è sotto perché non tiene, quindi vi dà la prova del 9 del primer, ecco perché è importante che darlo il Primus, eh? A quel punto ho dato il Primus, ci passano quelle quattro, ci sono le asciughe perfettamente e da qui iniziamo a dare i nostri passaggi dello spatolo Stucchio, stiamo parlando di spatolo Stucchio adesso, eh? Tutto riscono un po', ne parliamo qui, quindi a questo punto diamo una prima parte, perché oggi ho fatto preparare dei pannelli un po' difficili da fare, perché questi qui sono colori abbastanza difficili e se siete entrati nel sito avete visto che con il nero e con il viola, chi più ne ha più ne ha più ne ha, chi ha fatto il nero ha avuto dei problemi, io adesso non lo so se è chiaramente avuto dei problemi, perché poi si è andato sulle foto e guardando le foto non mi sembra che c'era più un problema. Per quanto riguarda invece il viola, quel nostro bellissimo amico Arimondi di Abruzzo, che lui è disperato, nonostante tutto ancora disperato, con il viola, ho voluto preparare questi tre pannelli difficili, sono i colori più difficili in assoluto questi affari. Adesso vediamo con Andrea, nel caso qualcuno di voi vuole intervenire, nel porre del romano, dovevo fare. Quindi adesso andiamo a fare il primo passo. Premetto, premetto la miscelazione del colore. Lo spazzolastucchio è una miscelata almeno una nottata prima, che essendo un tixotropico che è appenato allo smoglio si sponda. Ed è importantissimo sempre, se che un uovo miscelato, anche se devi usare il bianco, non lo usatelo così, lo prendetelo ad applicare, no, è importante miscelare anche il bianco, lasciamo qui riposare e poi se lo dobbiamo andare ad applicare. Sarà tutto molto più semplice. Ok? Quindi misceliamo il colorante con lo spazzolastucchi, sicuramente per fare questi colori, siccome mettiamo tanto colorante in una quantità minima di stucco, cosa succede? Che più delle volte, anzi, nel 99% dei casi, tutti i colori forti rimangono un pochino liquidi. E quindi si fa fatica ad applicare. A quel punto abbiamo tante possibilità per risolvere il problema. Quella più semplice è quella di prendere un addensante nostro, buttarlo dentro nella lattina, sapendo già che il prodotto rimane liquido, mentre mi dicevo il bordeaux, ci puto dentro l'addensantino insieme, lo lascio riposare tutta la notte e il giorno dopo lo trovo sicuramente più addensato. Ma nel caso che io non avessi l'addensante, il problema più grosso ce lo dà quando la dinta è liquida, l'applicazione sul primer, perché sul primer non ha una grande assorbenza. Allora in quel caso come si risolve il problema? Do una mano di spazzolastucchi bianco, a quel punto rendo la parete assorbente, quando vado a dare la mano col colore liquido, lui si assorbe subito e ci dà meno problemi. Se non avete provato, provatelo. Cioè quindi ammettiamo la mano a quattro mano. Faccia cosa? A me, quello che ti voglio dire è che dobbiamo sfadare le tre mani, le tre mani non esistono, o esistono perché io voglio far... esistono, cioè se io sono in grado che con tre mani riesco a togliere tutti i problemi della parete, ben venga, ma se io alla terza mano vedo ancora dei difetti nella parete, nessuno mi vieta di andare a dare la quarta mano o la quinta mano. E nel caso del prodotto scuro, questo problema esiste, perché se tu vuoi fare il viola o il bordeaux con tre mani, ma sfido chiunque che ti venga fuori un bellissimo lavoro, perché è talmente fluido il prodotto che non crea spessore e quindi tre mani non basta, se vogliono quattro o cinque addirittura. Già mettendo l'addensante, la situazione migliore, ma se lo date così liquido com'è, ma sfido chiunque a farlo con quattro o anche addirittura cinque mani, perché è talmente poco lo spessore che non riesce a coprire questo. Quindi le tre mani su qua non vanno assolutamente dentro. Tre mani, noi abbiamo scritto tre mani per quale motivo per dare in modo a chi si buttava dentro. Sotto sotto c'è il Luca, c'è qualcuno che ha tre mani e tre mani. Per fare l'ottimo lavoro c'è chi dà quattro mani. Ora sì, più spessore dai sul servizio delle mani e più prende il blocco granifico, più diventa aperto. Capito? Quindi non stiamo lì a pensare a fare tre mani per forza. Non esistono. Il problema della situazione deve fare come vedere la famosa terza mano, che non sarà la terza mano. Se vogliamo ottenere questa lucidatura di prodotti. Adesso poi, quando arriviamo nella parte finale, scoprirete perché il discorso della terza mano è finito. E molti sbagliano per quello, perché pensano che dare la quarta mano fa male. Lei per fare le righe per farlo diventare lucido, lucido, guarda un punto che non c'è male. Cioè da quello che ha detto lei... Lo sto ripetendo e vorrei ripetere. Andrea, io, con tre mani riesco a portarlo a quel risultato. Ma nonostante quello, non è vero che ne diamo solo tre mani. Perché noi, nella mano di finitura, sul pezzo che andremo a fare, non ci vado solamente una volta. Dopo vi faccio vedere perché dico la terza mano, la mano di finitura, non deve essere la terza mano, proprio la terza mano. Qualche non basta. Dobbiamo andare ad arricchire quel pezzo che vado a fare. Quindi, ripassandoci sopra, già ne metto la quattro, la pinta...